Ciao a tutti, sono RettonFox, questo è un video veloce in cui vi spiego perché faccio i video con l'intelligenza artificiale, doppiaggio l'intelligenza artificiale e quelli automatizzati, quelli proprio doppiato da ogni A o rovinato da ogni A e queste cose qua. Vi spiego perché, perché mi sembra di, insomma, ho avuto un commento da YouTube che mi ha detto che, insomma, lui ha frainteso questa cosa e so che anche altre persone non ha frainteso perché vedo alcuni commenti che dicono un po' questo, ecco. Vi spiego, io non sto facendo questi video qua per supportare l'IA, ok, per rendere noto A, ok, l'IA che doppia è una realtà bellissima e supportiamo questa cosa. Sto facendo questi video per, soprattutto per ridere, ok, per meme, cioè, quei video lì sono video meme, sono shitposting praticamente. Muori mostro, non appartieni a questo mondo. Non è per mano mia che sono di nuovo dato carne. E per far vedere come l'IA che doppia faccia cacare, ok? Noi ridiamo della pessima qualità dell'IA che doppia. Lo facciamo, lo faccio io, lo fa anche diversa altra gente. È qualcosa, diciamo, di comune, lo stiamo facendo un po' di persone. Quindi l'IA che doppia ha risultati brutti e questi video sono per creare ilarità, ok? Per far vedere come questa cosa qui faccia cacare, come quando fai un disegno con l'IA e c'ha dieci dita invece che cinque, ok? Rumore di petto! Non sono un video per supportare l'IA, che bella l'IA, quanto lavora bene l'IA. Al contrario, sono un video per appunto prendere per il culo l'IA, ridere di quest'ultima. E lo dico, ne approfitto per dire anche, perché ci sono stati un po' di trattenimenti, io sono a favore del doppiaggio italiano. Cioè, se prendersi una cosa doppiata in italiano, io, se è doppiata bene sono contento, se è doppiata male rido, ok? Quindi a prescindere, io sono a favore del doppiaggio italiano. Poi, vedo che indietro altra volta mi lamento del doppiaggio italiano, posso risultare un po' pesante, perché effettivamente dici, oh, questo doppiaggio qua è fatto bene, tuttavia il fatto che magari lo sai diretto male, e alcune frasi sono tradotte male, sì, ce lo faccio, perché effettivamente è una cosa che mi piace, quindi ho la tendenza a magari sovra-esaminarla, sovra-recensirla, se vogliamo. Però sì, ammetto che a volte sono pesante, quindi può essere anche... Quello aiuta anche la prospettiva mia, che magari può sembrare che io abbia nei confronti del doppiaggio italiano, ma assolutamente sono a favore del doppiaggio italiano, mi piace molto il doppiaggio italiano, da sempre, da quando ero piccolo, mi piace avere le cose in italiano, che siano pienamente, insomma, supportate, proprio localizzate voce e testo in italiano, e assolutamente non sono contrario e... Cioè, non sono neanche a favore del fatto che c'è una macchina a fare questo lavoro qua. Cioè, è qualcosa che secondo me non dovrebbe essere assolutamente applicato, ci vuole un input umano, ci vuole una persona dietro a un lavoro fatto bene, e una macchina non può sostituire una persona. Cioè, una potenza di programmazione posso capire, pulire il codice, magari codici molto grandi, ok? I codici che sono maneggiati da qualcosa come, boh, decine di anni, e quindi c'è tanto di quel codice spaghetti code da rimuovere, da pulire, da sistemare, quello lì, cioè, ci sta che lo faccia una macchina. Ma anche alcune cose, tipo, per esempio, c'è stato un caso in cui lì ha permesso di scoprire delle cure per delle malattie, anche lì, cioè, è una cosa fatta per il bene dell'umanità, cioè, assolutamente sì. Se si parla di doppiaggio, insomma, io sinceramente mi sono abbastanza contrario all'applicare l'intera opera di un videogioco in mano a una macchina, cioè, è sbagliato. Ciao, ciao, Dio abbia pietà, gloria a Dio. Questo momento. Contrumenti, hai appena vinto un premio. Cosa c'è? TD Project Live sta applicando, per esempio, per dire, il doppiare personaggi, cioè, fanno mondi open world pieni di personaggi e vogliono far doppiare quelli secondari dagli A. E lì, cioè, sì, è un po' un... cioè, nel senso che dipende da come sarà fatto, assolutamente, non mi compicherò, però, l'importante è che, insomma, l'input umano rimanga che i personaggi principali siano doppiati da esseri umani, per quanto mi riguarda. Poi, chiaramente, sono due giochi che hanno tantissimo dialogo aggiunto, li posso capire, ok, non esprimermi contro da quello, mi riesce difficile, perché esistono progetti come open world, effettivamente molto, molto complessi, come possa essere anche uno Starfield, che, per l'appunto, a causa di grandi numeri, non è stato doppiato in italiano, li posso già capire un po' di più. Però, far fare tutto una macchina, sinceramente, trovo che sia assolutamente sbagliato. Poi, cioè, sia chiaro, doppiaggi fatti da macchine, ok? Completamente fatti da macchine. Nei videogiochi, mi viene in mente solamente, vabbè, a parte Whispering Lane e Apartment 142, che ho pubblicato i long play di recente, anche le live, e sono stati fatti per deridere, ok? Le live, passano tutto il tempo a ridere, quanto hanno fatto male. Però, a parte quei due giochi lì, giochi completamente doppiati a macchine, vabbè, Metroid Dread di Nintendo, anche quello ha doppiato totalmente la macchina, anche lì sono un po' sfavore, perché, sì, ok, va bene, sono dei robot, quei personaggi, però, cioè, ci sono tanti giochi in cui ci sono dei robot, e sono doppiati da persone, con la voce robotica. Quindi, sì, cioè, gira e rigira, alla fine Metroid Dread l'ha fatto così, poi che sia colpa di Nintendo o degli sviluppatori Mercury, Mercury o come si chiama, quello non lo so, cioè. Però è fatto per spamiare, è fatto per dare lavoro a una macchina, ok? Non spendereci soldi e non darlo a una persona. Quindi, anche lì, cioè, sono abbastanza dell'idea che si è fatta apposta, per essere una mossa di quel tipo, cioè. Alla fine, è come usare ogni A, è come usare ogni A. Garantendo una completa saturazione globale. Grazie, ciao. Quindi, cioè, sì, detto in sintesi, giusto per concludere, non sono contro il doppiaggio fatto da persone, non sono a favore di quello fatto da l'IA, assolutamente. I video che faccio sui doppiaggi A è per ridere di quanto l'IA faccia cacare. È un modo anche per dare consapevolezza. Se tanta gente vede che l'IA fa cacare a doppiare, non supporta questa pratica, ok? Se poi un giorno qualche videogioco fatto dalle IA al dove avremo, cioè doppiato proprio, è una cosa che forse sarà inevitabile, ok? Però, se c'è la consapevolezza che effettivamente l'IA faccia cacare a doppiare, si può avere, insomma, una speranza che qualcosa si mobiliti in tal senso, in favore delle persone che doppiano, ok? Ci vorrebbe anche più organizzazione in Italia, in questo ambito qua, ok? Nel senso che, sempre come la vedo io, un problema di organizzazione proprio alle radici dei doppiaggi dei videogiochi c'è sempre stato e c'è ancora oggi più che mai. Quindi, secondo me, il problema più grosso è veramente rendere più facile l'organizzarsi da parte delle grandi aziende, non da parte necessariamente del doppiatore in sé, per fare in modo che i doppiaggi fanno fuori meglio e, diciamo, abbiano un risultato finale migliore. Quello sì, quello assolutamente sì, ma da sempre questo. Ma la soluzione non deve essere l'IA. Per fare un esempio comunque buono sull'intento dei miei video, è se tu vai a mangiare in una pizzeria, hai tot clienti, hai 100 clienti, di questi 100 clienti, 90 hanno mangiato male, ok? E 90 sconsiglieranno quella pizzeria. Dei video che faccio, ok? La gente vede questi video in cui l'IA fa i versi strani, fa le voci strane, non capisce quello che vien detto. Hai addirittura avuto l'opportunità di uccidermi, ma non l'hai fatto, non l'hai fatto, maledetta catapulta! E di conseguenza le persone che guardano i miei video vedono che l'IA fa cacara a fare questo lavoro e non la supportano, ok? L'idea è la stessa. Non è che facendo video sull'IA anche in cui dobbiamo male supporto l'IA e dico ah che bella l'IA. Al contrario, sto dicendo che l'IA fa cacare, ok? Che l'IA fa cacare a doppiare, non andrebbe utilizzata il mezzo, ok? Perché è tecnologico e viene applicato male perché non può essere utilizzato senza un input umano dietro, ok? Poi parzialmente utilizzato, quello è abbastanza discutibile, nel senso che sì, cioè parzialmente utilizzato, forse diciamo un qualcuno dietro che applicherà in qualche modo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare determinati lavori è qualcosa di possibile, ok? Non è qualcosa che non succederà. Anche in ambito proprio fonico, ecco, diciamola così. Però far fare tutto automatizzato è sbagliato, non funziona, ok? E i miei video non sono a favore di questo. E se voi pensate che i miei video siano a favore di questo, ragazzi, o non avete mai visto un video di quelli che ho fatto con l'IA. Vegetta, questo non è il momento di litigare. Se non ci liberiamo di questo tipo freezer, le cose diventeranno terribili. Prontola quanto vuoi, ma fallo dopo che mi hai stoppato. O ne avete visti pochi, perché effettivamente quando si parla di video di making up, l'IA, diamo a Cesare quello che è di Cesare, effettivamente ha fatto un buon lavoro. E ok? Lì c'è poco da fare, perché nel senso alla fine sono persone che parlano tranquillamente, normalmente, scandiscono bene, l'IA capisce e riesce effettivamente a riproporre un'esperienza visiva abbastanza decente, a parte le traduzioni fatte un po' male. Lì, diamo a Cesare quello di Cesare, in ambito, diciamo, di documentario, l'IA effettivamente non se la cava malissimo. Appena si esce da quella panoramica, come dice Drake qui sulla schermo, e appena si esce da quella panoramica, e fa dei disastri immondi, ok? Appena fa un attimo di verso, traduce il verso. Appena c'è un rumore, pensa assieme a parlare, lo traduce. Ok? È qualcosa di impraticabile a livello effettivo, che non sia appunto, tra virgolette, quello che può essere un documentario, come abbiamo visto. Quindi io non sono a favore di questa cosa qua, e i miei video sono quasi di protesta, ok? Non sono assolutamente dei video pro-IA, e se pensate questo, guardate bene un po', guardate quello di Metal Gear, guardate quelli di Dragon Ball che ho pubblicato, che sono dei deliri assoluti. Divertirti nella tua tomba, non ho intenzione di perdere, figlio di puttana! Io spero che riusciate a me a farvi una risata, ok? Io rido, quando qualcosa è fatto male è trash, ok? Rido, io ridevo anche quando all'epoca dei sottotitoli di YouTube, e tirava fuori nei sottotitoli delle cose assurde, cioè io ridevo perché erano, diciamo, una sorta di una macchina che sbagliava nel fare il suo lavoro, e tirava fuori delle pupa automatiche, praticamente, ok? E a me questa cosa si è fatto sempre a ridere. Io faccio questo video qua per chiarificare, e anche per esprimere, insomma, questa cosa qua. Io sono dalla vostra parte, io non sono contro ai doppiatori italiani, e giuro, se io faccio video, anche prima, se io faccio video in cui prendo per il culo il doppiaggio italiano, perché a volte è fatto male nei videogiochi, spesso non è colpa neanche dei doppiatori italiani, lo faccio per ridere, ok? Sono video divertenti, ok? Uno può dire quel che gli pare, però se a volte un doppiaggio è fatto male in italiano, a volte manco da italiani, o è la verità, si ride, si riconosce che a volte quel doppiaggio è fatto male, e si ride assieme, ok? Cioè io credo che nessuno, a nessuno convenga che ogni doppiaggio italiano esistente venga considerato fatto benissimo, ok? E venga considerato un doppiaggio perfetto, Cioè, ci sono delle volte in cui il doppiaggio italiano è fatto un po' male, e riconoscerlo è un modo anche giusto, per migliorare questa pratica, per migliorare il doppiaggio negli anni, nel futuro, ecco. Poi, alla fine, uno, se io sono il primo a giocare a giochi doppiati anche male, perché gli piace che siano doppiati in italiano, quindi di conseguenza, capisco dal punto di vista, però davvero ragazzi, non pensiate che io sia contro il doppiaggio italiano, che voglia che li sostituisca le persone, perché anche se è un'eventualità che può succedere, e anche se è vero che alcuni doppiaggi sono un po' iagia di loro, quando vengono di attimare i lavori, che purtroppo è vero, cioè quando è successo che dei doppiatori avessero davanti una lista di frasi senza contesto, senza sapere che personaggi doppiassero, senza sapere quasi che gioco fosse, lì lì ha è uguale, lì ha peggio, perché chiaramente dice la frase peggio, non ha la stessa personalità, non ha la stessa dizione di una persona, però lì ci vorrebbe più organizzazione, da parte delle grandi aziende, non da parte di un'altra volta, le grandi aziende infatti dovrebbero organizzarsi meglio, a fare in modo che questi doppiaggi escano fuori nel migliore dei modi, ecco quello sì, però assolutamente non pensiate che quei video, con doppiaggi e con gli A, che sono praticamente video meme, siano video a favore degli A, e credo che chiunque abbia visto, ha avuto diciamo questa impressione qua, e abbia letteralmente non visto il video, abbia solamente visto il titolo, e buonanotte. Al contrario video in cui faccio cantare, ok, questi qua, faccio cantare, non so, a Snake, o a Otacon, o a tutti quei personaggi non esistenti, e quindi con le voci doppiate, non so, Grissin Bon, o qual era quell'altro, il gattino virgola, sono video meme, ok, cioè non è che li sto supportando, in qualche modo gli A, sto facendo un video divertente, in cui un personaggio immaginario, fa una cosa molto improbabile, cioè canta la canzone di Grissin Bon, va bene, non è un video in cui sto supportando gli A, e se lo pensate, boi, io non so che cazzo dirvi, andate da tutti i doppiatori, che hanno doppiato, Goku è un po' più difficile, per esempio, Cell è un po' più difficile, ha mandato, non so, il doppiatore di Buzz Bunny, dice cantami Grissin Bon al microfono, che devo dire, però no, in quel ramito lì, non sto supportando niente, mi avvalgo della tecnologia, per farci due risate insieme, ecco, che è questo, ecco, che poi non sono mica l'unico a fare queste cose qua, poi se qualcuno dice effettivamente, no, guarda, l'IA supererà le persone, perché ho visto un video di Bugs Bunny, che canta, e sei buono, allora lì, non so, cioè, svegliati, datti una svegliata, che ti devo dire, se i tuoi standard sono così bassi, che tu pensi che l'IA possa sostituire le persone, perché con una macchina hai meccanicamente fatto una voce simile a Bugs Bunny, che canta del Simbon, allora c'è tipo, potrei farti un elenco infinito di quante cazzo di cose, per fare un doppiaggio devi avere preparazione di anni, ok, devi avere l'addizione, devi avere l'abilità nel parlare tanto, nel gestire il fiato, tutte queste cose qua, non puoi farlo fare a una macchina, che gli copi la voce di uno, e gli fai quel lavoro lì, non è, a parte che si sente che non sono veramente, loro a cantare il Simbon, o cattino virgola, e altre cose, perché si sente che non sono loro, cioè, è una voce simile, ok, e quando fai una poop, che fai dire, cazzo invece che pazzo, cioè, si sente meccanicamente che è stata modificata la frase, da una macchina, per fare in modo che sia cambiata la sillabazione delle parole, ok, se tu c'è poco, diciamo, orecchio, lì, oh, mi dispiace, però, non rappresenta certo la fine del doppiaggio, questa cosa lì, cioè, dai, siamo onesti, il doppiaggio italiano, ma il doppiaggio in generale, è qualcosa che non puoi far finire, semplicemente per, con una macchina che si mette a imitare una voce, o una macchina che si mette a tradurre automaticamente le frasi da una, da, da, lingua A a lingua B, ok, e, anzi, delle due, io, mi sentirei di dire che non è un futuro molto prossimo, cioè, odio, nel 2050, in un futuro distoppico, forse avremo, delle situazioni in cui alcuni prodotti saranno doppiati in questo modo, ok, ma non mi sento di pensare, io che l'ho un po' studiata, queste cose qua, perché al fine per fare i meme, volente o non volente, queste cose qua, te le impari, e, non è una, una, una tecnologia applicabile per fare questo lavoro qua, bene, ok, cioè, la gente si lamenta, della qualità dei giochi, per cose molto minori, cioè, se avessimo un gioco doppiato tutto, roboticamente, come abbiamo visto, Whisper in Glane, andate a vederlo sul mio canale, e, a parte a metto 142, se avete dei giochi doppiati meccanicamente da dei robot, si sente che sono dei cazzo di robot, si sente che non sono persone, si sente che è creato a computer, non è qualcosa che succederà mai, ok, e, se vedete dei video fatti così, doppiaggi fatti con gli A, fatti bene su internet, non sono doppiaggi automatici fatti con gli A, sono doppiaggi che c'è qualcuno dietro, che ha dovuto rifare la frase, ok, con una base, ok, con una base di qualcuno che l'ha letta, e l'ha recitata, a volte anche frasi fatte da altri doppiatori, come per esempio, quando tu prendi i video di Battle of God, e ci metti sopra Torisi, prendi Word, ok, e ci applici sopra il modello di Torisi, ok, per fare una cosa del genere, serve comunque un doppiatore dietro, va bene, che poi possa succedere, sì, è già successo in realtà in passato con Cyberpunk, in cui il doppiatore era morto, e quindi hanno chiesto alla famiglia di poterlo utilizzare, la sua voce, con gli A, e quindi hanno fatto così, hanno creato il modello del doppiatore morto, hanno chiamato un doppiatore, che ci parlava sopra, che ne imitava il timbro, e col modello hanno reso la voce quella del doppiatore, che ne imitava il timbro, poi, è una roba del doppiatore polacco, e sinceramente non so, cioè, non conosco il polacco, non so neanche che personaggio sia, quindi personalmente non saprei neanche andare a cercare, ok, questa frase, ridoppiata di questo doppiatore, che è morto, però sì, ci sono cose che non, tranquillizzatevi, datevi una calmata, non, non vi, nessuno vi verrà in casa, da un giorno all'altro, a dire, no, guarda, voi adesso non lavorate più, perché questa cosa qua, è doppiata da un robot, per come la vedo io, io non sono un'azienda, ok, io da persona che ha capito, ha imparato un po', come vengono fatte queste cose, non succederà, cioè, se succederà, la gente non li apprezzerà, e quindi di conseguenza è una pratica che non verrà più fatta, ok, il risultato finale sarà la gente che si lamenta, perché il risultato è pessimo, e di conseguenza, nessuno vi verrà a togliere il lavoro, a voi doppiatori, traduttori, eccetera, può essere che magari vi, verrà utilizzato per, appunto, nel caso di un doppiatore che non c'è più, e quindi, mancano delle frasi, le aggiungono con le altre, può essere anche questa cosa qua, però, che diventi, diciamo, di uso comune, e generalizzato, io trovo che sia un futuro, assolutamente lontanissimo, è impossibile, quando succederà, ci saranno le giuste lamentele da parte degli acquirenti, ok, quindi, io consiglio anche a tutti quanti i doppiatori, o aspiranti i doppiatori, di calmarsi, e non vedere le cose così, così come se fosse la fine del mondo, non succederà, in ambito di videogiochi non succederà, in ambito di documentari, non è impossibile vederlo, perché alla fine il documentario è solamente leggere delle frasi, e poi sì, ci vuole anche personalità, ci sono anche doppiatori molto bravi, che lo fanno, e fanno dei documentari molto belli, però, cioè, diciamo, tendenzialmente, non mi aspetto assolutamente, che almeno nei videogiochi, questa cosa qua venga applicata molto presto, e quando succederà, sarà compito del pubblico, fa notare che non sarà un buon lavoro, quindi, io lo vedrei molto meno apocalittico, poi ho, ripeto, io non sono a favore di questa pratica, e se lo pensate, per dei video meme, mi dispiace, insomma, però, provate almeno a guardare i video, prima di criticare il titolo, ok, che ora non sto dicendo a RavTube, per carità, perché ha beccato un video da pubblicità, che effettivamente, ha avuto un risultato, anche abbastanza normale, cioè, bruttino, ma non troppo esilarante, ma, per esempio RavTube, se tu, stai guardando sto video, suppongo, e, ti guardi, non so, i video di Metal Gear, doppiati dall'IA, ok, o i video, per dire, di Dragon Ball, Sparking Zero, i trailer, doppiati dall'IA, vedi come i risultati dell'IA, sono assolutamente, anche Final Fantasy VII, sono assolutamente, pessimi, ok, sono risultati, ridicoli, risultati, che, nei video, sono stati fatti apposta, perché, è shitposting, e lo facciamo per ridere, ok, ci facciamo tutti quanti, una risata, per vedere quanto, faccia caccare l'IA, non è un, assolutamente un video, dico a tutti, non è assolutamente un video, o dei video, fatti per supportare questa pratica, perché anche perché, personalmente, non so mica un'azienda, che, che, che fa l'IA, anzi, sono uno, che ha sempre amato, il doppiaggio, sin da quando era piccolo, adesso, ho i miei trent'anni, e, sono trent'anni, che mi piace il doppiaggio, quindi, non è che, adesso decido di punto in bianco, e, adesso, lì a il futuro, e tradisco questa cosa, cioè, assolutamente no, e poi, cioè, chi mi conosce, lo sa, nel senso che, chi mi conosce, da sempre, lo sa, che in realtà, io l'ho sempre vista così, poi, non è che, necessariamente, tutti quanti, mi abbiamo parlato, abbia avuto, conversazioni, o amicizia, con tutti, però, sì, è sempre stato, una mia, un mio pallino, questo è il doppiaggio, dei videogiochi, quindi, non è che, sono a favore, sono dalla vostra parte, quindi, diamoci una calmata, tranquilli, ecco, tutto qua, detto questo, dai, vi saluto, sono 20 minuti di video, 25 quasi, e volevo farlo più breve, però, le cose a dire hanno tante, io sono logoroico, e quindi ho detto, mi sono detto, mentre parlavo, ci sta, che sia un video un po' lungo, perché, è qualcosa che io ci tengo, che venga capito bene, anche perché, non sono a favore, di questa cosa qua, anzi, sono contrario, e che la gente pensi, perché io faccio dei video meme, che io sia a favore, cioè, un po' mi dispiace, però, cioè, dai, cerchiamo di capirci, perché, c'è un video meme, c'è un video fatti per ridere, c'è un video anzi, per prendere per il culo, lì a, perché fa un lavoro fatto male, non, non pensiate davvero, che io sia a favore, dellì a, anche perché non sono un'azienda, che lo deve vendere, cioè, non è che cazzo me ne frega, se esiste un'ia che doppia, al di fuori, dalle tassi due risate, ok, quindi, grazie a tutti, ma a parte, mi sapete nei commenti, insomma, anche se siete coinvolti, con questa faccenda, ditemi un po' quello che ne pensate, anche perché arrivare a 25 minuti di video, capisco che sia un po' pesa, però, fatemi sapere lo stesso, quello che ne pensate, avrei fatto un video anche più breve, però sinceramente, trovo che le cose, a volte, servono al giusto tempo, prendersi il giusto tempo, per parlarne, e, quindi, ho detto, va bene, faccio un video così lungo, a un certo punto, mentre stavo spiegando, perché, se uno fa un video breve, non dice tutto, alla fine, la spiegazione, finale, è parziale, invece, secondo la cosa, poi, tengo che sia capita bene, ho detto, va bene anche fare un video di 25 minuti, quindi dai, vi saluto, fatemi sapere nei commenti, quello che ne pensate, spero che sia stato, appunto, un video, che vi abbia fatto capire, dal mio punto di vista, perché, lo scopo del video era questo, e quindi, dai, alla prossima, poi, se volete parlarne, comunque, io faccio dirette tutte le sere, quindi, mi trovate in diretta, tutte le sere, alle nove e mezza, dieci circa, e quindi, basta passare qua su YouTube, se no, c'è anche Twitch, e, parlarmene lì, e quindi, dovete discuterne, io sono anche lì, più veloce, insomma, chiaramente, in live, che, che, effettivamente, parlarne nei commenti, perché, è più veloce, semplicemente, detto questo, ci vediamo, magari in live, anche stasera.